Far vedere il momento dell'attesa della pappa. Siamo in notevole ritardo, guardate tutti sconsolati. C'è perfino chi fa finta di essere morto per la fame, vero? E la loveli. C'è come ciclamino, notare che bel pelo... Chi te l'ha fatto questo bel pelo ciclamino? La mamma, ma non ci crede nessuno che mamma è riuscita a fare così una cosa fatta bella. Poi abbiamo la mamma, la mamma, la severa, la hola, azul, anche azul è stata fatta. Chi ti ha fatto questo bel pelo azul? La mamma, e azul è stata più facile perché con la macchinetta... Antitesi, severa, life. Puff, poi chi manca, chi manca, chi manca, chi manca, chi manca. Mancano un po' che sono su. Poi i tre cuccioli. Guarda come ci siamo ponciate! Non ci facciamo vedere, eh, da mamma Nadia. No, io non mi farei vedere con quella barbetta da mamma Nadia. Te va bene tanto... Ponciarello. Saluta mamma, ponciarello, saluta Paola. Ponciarello si vede meno che mi sono sporcata nel fangolo. E poi... Abbiamo finito. Allora, noi vi salutiamo. Adesso inizio a dare la pappa a tutti e anche a quelli sopra. Buona serata! Grazie. Grazie. Grazie.